Il 29 luglio del 57. Ieri mattina in aula il capitano Diodato Rossi ha smentito se stesso cominciando la sua deposizione ricollocando i ricordi rispetto ai controlli amministrativi e urbanistici da lui eseguiti presso il centro commerciale Pegaso. Le sue dichiarazioni rese al PM Montemurro nell'estate scorsa avevano dato fuoco ma accusatorio. Rossi aveva spaziato dalle pressioni che Gambino avrebbe fatto sul centro Pegaso ai rapporti che lo stesso intratteneva con i fratelli Petrosino D'Auria. Nelle sue dichiarazioni rese nell'audizione del 9 giugno al pubblico ministero e peraltro tutte riprese anche nelle motivazioni della commissione di accesso agli atti che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale di Pagani per infiltrazioni si legge di un abbraccio plateale pubblico tra il sindaco Gambino e Michele D'Auria Petrosino avvenuto al Palazzurro in occasione delle regionali 2010. In quelle dichiarazioni che anche la commissione di accesso ha riportato nella relazione perché fortemente comprovanti, così come sembrava, Rossi aveva detto che Gambino gli aveva ordinato di eseguire controlli al Pegaso e di trovare il modo di chiuderlo. Ieri invece ha affermato che mai nessuno gli spiegò il motivo dell'intervento di una pattuglia presso il centro commerciale e che fu lui autonomamente a formulare sulla scorta di quanto gli aveva confidato Amerigo Panico sulla vicenda di alcune raccomandazioni per le assunzioni. Rossi ha anche ridimensionato la portata accusatoria dei suoi ricordi in merito ai rapporti tra Gambino e fratelli Petrosino D'Auria. Michele in particolare, confermando che il maggiore dei fratelli ingeriva pesantemente sulla gestione dei parcheggi, ma dichiarando altresì che l'assegnazione alla cooperativa New Agency fu decretata da Multiservice dopo un'indagine di mercato e che in ogni caso fu una mia supposizione che alla medesima cooperativa sarebbe finita anche la gestione dell'area di sosta a pagamento del Pegaso, ha detto. Sull'abbraccio tra Gambino e Michele Petrosino D'Auria, al termine della convention del PDL al Palazzurro per l'avvio della campagna elettorale alle ultime regionali, il capitano Rossi ha frenato la portata accusatoria dei suoi ricordi. L'abbraccio ci fu, ha detto, ma è una cosa normale in un contesto del genere. Il test ha usato l'espressione volontà punitiva ed ha usato l'espressione che la volontà punitiva collegata tra l'altro a una specifica circostanza, ossia quella di richieste di assunzioni di personale non soddisfatte, vi era stata una necessità di intervenire e di punire il panico. risponde su quello che stavo cercando di specificare. E specifici. Poiché io ho avuto dei colloquio nel panico in quel periodo dove c'era in fase di ampliamento la struttura e lui mi riferiva che c'erano delle richieste da parte dell'amministrazione comunale di assunzioni proprio in virtù di questo ampliamento. Quando mi è arrivata la richiesta di andare a fare il controllo in un periodo, voglio dire, anche contingente, vista nelle festività pasquale, ho dedotto che la cosa era mirata in qualche modo a dare fastidio, tra virgolette. Da qui il termine punitivo che ho usato nella dichiarazione. E a loro dire? Ma, prego. E a loro dire? Di chi? Nel suo verbale, lei dice, poiché il panico americo non si era mostrato, a loro dire, disponibile... Ma queste erano affermazioni che io ho dedotto dal panico, ho avuto dal panico che si lamentava con me del fatto che secondo loro gli amministratori non avevano avuto la giusta, come dire, parte in quello che in effetti avevano richiesto rispetto alle assunzioni. Ed ora, naturalmente, la DDA salernitana vuole andare fino in fondo. Sarà la procura di Salerno a valutare la posizione dell'ex comandante dei vigili urbani dei pagani di Odato Rossi, dopo la clamorosa ritrattazione ieri in udienza delle accuse da lui stesso formulate lo scorso mese di giugno. Il pubblico ministero Montemurro ha chiesto alla presidente Allegro di valutare per Rossi l'incriminazione per falsa testimonianza, con possibile circostanza aggravante ex articolo 7, per intenderci quella stessa aggravante camorristica che ha portato in carcere e tiene ancora i domiciliari gran parte degli imputati di linea d'ombra. Il clamore della deposizione del capitano Rossi ha fatto passare in secondo piano un altro punto messo a segno dalle difese che hanno ottenuto dal tribunale la nomina di un perito che valuti la genuinità delle due registrazioni effettuate da Amerigo Panico e consegnate ai carabinieri all'atto delle sue denunce. Secondo i difensori degli imputati ci sarebbero stralci non trascritti e tali da offrire una chiave di lettura tutta nuova per l'intera vicenda. Andati sul posto abbiamo accertato la presenza e abbiamo deciso di controllare anche tutti gli altri registri presenti all'interno del PEC per verificare se ci fossero situazioni similari e riscontrovamo la presenza anche all'experto di una struttura.